Mai più situazioni di urgenza come quella verificatasi due anni fa. Al palaghiaccio di Felter sono stati installati dei nuovi sensori wireless che monitorano lo stato di integrità delle strutture portanti in legno. Nell'estate del 2016 la struttura fu dichiarata inagibile per alcune settimane. 8 dei 13 puntoni che sostengono la copertura del lato nord erano risultati pericolosamente indeboliti per colpa dell'umidità. Le indagini strumentali avevano evidenziato l'inconsistenza del materiale in diversi punti. Una nevicata abbondante si disse allora avrebbe potuto creare una situazione di pericolo. Gli elementi furono sostituiti in tempo per salvare la stagione sportiva ma non mancarono tensioni e polemiche. Ora per monitorare le condizioni di puntoni tra vature in rapporto al tasso di umidità ci sono i nuovi sensori collocati a una profondità di 10 centimetri. Qualora i valori rilevati cambino repentinamente superando gli standard previsti alla stazione di controllo collegata ai sensori viene inviato un segnale di avviso che porterà quindi a un sopralluogo degli specialisti. La durata della vita delle batterie che alimentano i sensori coincide con l'intervallo tra una verifica programmata e un'altra. Il ricorso a questa tecnologia innovativa commenta l'assessore alle manutenzioni Adis Zatta ci aiuterà a tenere costantemente sotto controllo lo stato di salute delle travature prevenendo episodi di decadimento repentino del legno. I sensori per l'umidità ci consentiranno quindi anche una riduzione dei costi di manutenzione e ci garantiscono un innalzamento degli standard di sicurezza della struttura che rappresenta uno dei fiorell'occhiello della dotazione sportiva del comune di Feltre.